mi potete dare dei consigli perché andrà in onda il nostro set fotografico quindi importante che sia bello io ho un'idea io ho un'idea molto precisa di cosa voglio voglio che con i colori con i set risalti l'anima dei nostri vestiti te seta? oh beh io vorrei tanto è molto importante che i vestiti devono andare bene sulle modelle che risaltino che vadano bene si devono risaltare sia modelle che vestiti se no perché se no ti immagini che te metti un vestito di foglie su una che non ci sta bene ma ci starebbe bene del velluto allora gli metti il velluto e non gli lasci quello di foglie sono d'accordo ottima idea il blu va bene? si il blu fa risaltare molto il nostro vestito come stavo dicendo prima questa persona come ti chiami? Gabriela ok Gabriela ti risalta molto questo vestito sei la persona giusta per questo vestito spettiniamoti perché mamma mia mamma mia che bello stai in pausa giusta mi raccomando prossima modella hai un bel profilo molto bello di profilo si abbina col vestito semplicemente perfetta fotografa siamo pronte ok oh ecco qui ragazzi bene questo vestito è per se volete fare un viaggio nella foresta senza essere scoperti dai cacciatori sei semplicemente perfetta per Natale però ti manca questo è questo sei perfetta ma ti mancano i capelli da spazzolare Ebbene, passiamo alla prossima! Prossima modella! Sei proprio un'incantatrice di serpenti! Prossima modella! 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 ciao a tutti amici questo era l'incupertigli modelli grazie a tutti lasciate un like se vi è piaciuto anche voi questo video e lasciate un like ciao ragazzi che ci guardate sono nel cielo da precipitare grazie a tutti grazie a tutti